Sì, grazie Presidente. Colgo l'occasione della trattazione di questa proposta di deliberazione per provare a fare un pochino il punto sul percorso sicuramente difficile, ancora lungo e complesso, di risanamento dell'azienda di trasporto pubblico della città di Roma. Un percorso che mi piace sempre ricordare è stato avviato anche grazie soprattutto al contributo di quest'Aula che ormai circa tre anni fa approvò delle delibere importanti e anche delicate che erano volte ad esempio a prolungare di due anni l'affidamento del servizio di trasporto pubblico ad ATAC, stanziamenti in bilancio grazie ai quali poi Roma Capitale ha acquistato questi mezzi che adesso ci apprestiamo a dare ad ATAC con un contratto di usufrutto a titolo oneroso. Penso che questi passaggi siano importanti anche per i colleghi di opposizione. Troppa confusione e si fa veramente fatica a sentire. Grazie Presidente, dicevo sicuramente il percorso di risanamento di ATAC è un percorso che è stato avviato e che ha raggiunto anche dei traguardi e degli obiettivi importanti dal rinnovamento della flotta a questo chiaramente prima della pandemia dei ricavi da mercato, un aumento dei ricavi da bigliettazione e da mercato, un'intensificazione dei controlli sugli autobus per verificare appunto il possesso del titolo di viaggio. Però ecco, approfitto di questa posizione in aula anche per rimarcare a tutti i colleghi, alla giunta, alla sindaca che chiaramente questo percorso, come sappiamo tutti, è diventato difficoltoso alla luce della crisi pandemica che stiamo vivendo ancora oggi. Oggi vi do qualche numero, qualche riferimento, considerate che i ricavi da bigliettazione di ATAC sono circa 270 milioni di euro l'anno, vado a memoria nell'ultimo anno mi sembra siano calati di circa il 60%, posso più o meno risparmiare qualche punto percentuale ma sicuramente l'ordine di grandezza si capisce. Grazie a tutti. Ovviamente non è solo un problema di ATAC, io l'ho seguito anche in ANCI, nell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, chiaramente è un problema di un pochino tutte le aziende di trasporto pubblico italiane, ovviamente molto è stato fatto a livello centrale dai governi con misure di sostegno e così via. Però è bene ricordare che ancora non siamo usciti da questa fase difficile ed è bene continuare a lavorare fianco a fianco con la nostra azienda e a offrire un servizio sempre più efficiente e efficace per i cittadini. Ci sono sicuramente ad oggi alcune situazioni che stiamo affrontando anche in commissione, sicuramente complicate, penso al tema della manutenzione tramviaria piuttosto che all'esercizio dei filobus, anche lì ad esempio sulla manutenzione tramviaria è bene imparare un cambio di paradigma e ricomprendere nel contratto di servizio già nel corrispondimento del contratto di servizio le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria, tra virgolette, perché poi in realtà non è una vera e vera manutenzione straordinaria, ad esempio dell'armamento tramviario. Oggi dei problemi che abbiamo anche sulla manutenzione tram è dovuto al fatto che il proprietario dell'infrastruttura che è Roma Capitale deve di volta in volta in bilancio stanziare i fondi, destinarli poi ad ATAC che a sua volta, una volta che ha i fondi, fa le gare per la manutenzione, per il rinnovo del trasformamento. È chiaro che queste sono delle taggini che si potrebbero sicuramente evitare a beneficio dei cittadini riconoscendo direttamente nel corrispondimento chilometrico, che adesso anche qui, vado a memoria, non ricordo, sono 15-20 euro al chilometro, un qualcosina in più per prevedere già, diciamo così, di base la manutenzione dell'armamento tramviario. Perché, apro una piccola parentesi, visto che siamo in discussione generale, sicuramente ci si può un pochino dilungare o si può spaziare su questo argomento, un'altra serie di argomenti che abbiamo trattato in Commissione Mobilità è quella del nuovo contratto di servizio, che sappiamo, questo attuale, di ATAC, che si tratta a dicembre di quest'anno, e quale occasione migliore di costruire un contratto di servizio moderno, efficace, che metta nelle condizioni ATAC di poter esercitare nella maniera più efficiente possibile il servizio, e anche, ovviamente, Roma Capitale, di essere nelle migliori condizioni per poter effettuare il necessario controllo. E' la nostra partecipata Roma Servizio nella pianificazione. Ad esempio, l'ho suggerito più volte, anche con degli atti di indirizzo approvati in quest'Aula, è bene rimodulare il contratto di servizio definendo degli ulteriori costi standard che vanno, ad esempio, a specificare meglio la tipologia di veicolo o la modalità di alimentazione, che tra l'altro è anche un tema attuale, perché tra poco entreranno in servizio degli autobus ibridi e il costo standard per questa tipologia di trazione, in realtà, non c'è. C'è per l'elettrico, ma non c'è per l'ibrido. Quindi, sicuramente, specificare meglio la tipologia, parlo in particolare per il servizio di trasporto di superficie, a questa distinzione si potrebbe fare anche per le metropolitane, tra metro A, B e metro C, sarebbe molto molto importante, perché, chiaramente, se io al gestore corrispondo una somma diversa, se quella linea è esercitata con un mezzo 12 metri piuttosto che 18 metri, con un mezzo ibrido piuttosto che elettrico, chiaramente incentivo anche il gestore ad andare in una certa direzione e la mia funzione di controllo può essere sicuramente più, maggiormente precisa. Quindi, ecco, Presidente, ho colto questa occasione per fare un pochino una panoramica su questi temi che, immagino, comunque presto ci troveremo ad affrontare o comunque sicuramente prima della scadenza del mandato. Ovviamente so che l'assessore ci sta lavorando, ripeto, abbiamo fatto anche delle interessanti sedute di commissione su questo. Però, ecco, è bene tenere alta la guardia su questo argomento, perché talvolta mi sembra di scorgere sui media, tra i social, una sorta di, diciamo così, di andazzo per il quale va tutto bene. Per carità, abbiamo fatto molto su ATAC, ma questo è proprio il momento in cui bisogna insistere e non bisogna abbassare la guardia, come si dice talvolta. Quindi, ecco, sicuramente il tema del nuovo contratto di servizio è un tema che dovremo affrontare, sul quale sarà bene coinvolgere le università, agli esperti, i cittadini e così via, perché sicuramente ci potrà portare a un servizio ancora più efficiente. Chiudo poi con un ultimo aspetto che è collegato sempre al contratto di servizio, che è nel breve periodo, in un arco temporale che va da qui circa 5 anni, la nuova rete tramviaria che abbiamo pianificato nel piano urbano della mobilità sostenibile e per la quale, tra l'altro, sono già stati in parte previsti relativi finanziamenti per la realizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anche questo sarà un ragionamento importante da fare in un'ottica di nuovo contratto di servizio o, come si accennava, magari in un'ottica di un contratto di servizio attuale che vada a scadere prima della realizzazione di queste opere e poi successivamente rinnovare un nuovo contratto che prevede appunto una rete tramviaria profondamente ampliata, profondamente modificata, nuovi depositi e quindi dei costi di gestione sicuramente differenti. Quindi, colleghi, non voglio annoiarvi di più anche perché il tema, capisco, è un pochino tecnico, però mi sembrava interessante e soprattutto importante metterlo nello su bianco anche in questa seduta. Grazie.